Oggi parliamo di un tema super interessante, ho estratto dei dati da una ricerca che è stata fatta qualche anno fa, ormai svariati anni fa, attraverso un broker americano che aveva nel suo core business il mercato del forex e c'era stato questo studio che si può ancora trovare in rete, di cui parleremo quest'oggi, dove ci sono veramente delle statistiche interessanti che vanno a far riflettere il trader riguardo la propria attività e la propria gestione costi ricavi e soprattutto la gestione della paura, della sconfitta, della difficoltà, diciamo, che poi è dove noi tutti nel trading facciamo fatica. La difficoltà del trading spesso è proprio quella di accettare la perdita. In giro sul web si trovano mille discorsi riguardo strategie, ci sono, possiamo dire che abbiamo modalità veramente di tutti i tipi per fare trading, quindi strategie tecniche, indicatori, oscillatori, un sacco di strumenti, oggi poi ancora più di 10-15 anni fa, continuano ad esserci un sacco di modalità che ci permettono di essere tecnicamente validi nel fare trading, ma la percentuale di trader che durante un periodo di tempo medio-lungo tende a perdere è ancora molto elevata. Si parla del 90, dell'80, poi noi abbiamo la possibilità, da quando c'è stata la direttiva di ESMA, mi sembra nel 2017, se non ricordo male, che ha abbassato tutte le leve, eccetera, eccetera, sui CFD, abbiamo, e quindi c'è stato anche l'obbligo dei broker CFD nel mettere la percentuale di trader perdenti, vabbè, è una percentuale che hanno obbligato a fare, ma in realtà la stessa percentuale la ritroveremo anche su altri strumenti, fossero CFD e fossero azioni cash, forse sulle azioni cash un po' meno, perché si usa un po' meno leva e la leva comunque può avere un effetto emotivo nella gestione del trade. Comunque, detto questo, la cosa che un po' io già in altri video anche abbastanza recenti e non solo, anche molto più remoti, ho sempre discusso del fatto che, sì, ovviamente bisogna avere una metodologia e bisogna essere molto padroni di essa e soprattutto bisogna avere una metodologia che ci si senta nella prova e nelle proprie corde. Io, per esempio, uso la price action sui time frame alti, il daily, il quattro ore, il sei ore, questi sono i miei trade, trade che durano due o tre giorni, quando è tanto, una settimana, due, cioè questa è la mia modalità operativa, c'è chi invece magari fa tutt'altro, ma comunque ha una modalità operativa che ha una certa qualità, quindi non si può discutere tanto della strategia, perché di strategie ce ne sono molte, ce ne sono anche molto di valide, di approcci strategici e tecnici, ma perché allora così tanti trader poi perdono? Io in un video anche di poco tempo fa, ma anche in molti video passati ho sempre discusso sul fatto che in realtà non è la strategia, la metodologia tecnica che poi ti fa essere profittevole nel lungo termine, seppur questa si deve ben adattare alla propria persona, ovviamente il trading è molto singolare, è molto personale, ma ciò che poi fa essere vincente nel lungo termine, nel lungo termine, è la propria testa, il proprio mindset, l'approccio al mercato, l'approccio al trading. Vabbè, io non finirò mai di dirlo, abbiamo fatto corsi, ricorsi, webinar, probabilmente ne faremo ancora. Antonio Izzi, mio collega trader e anche esperto di queste tematiche, con lui abbiamo negli anni cercato di proporre sempre tematiche di questo tipo, perché riteniamo che la differenza tra un trader perdente nel lungo termine e uno vincente, la fa proprio la testa, anche perché se no non si spiegherebbe, ci sono tantissime tecniche e strategie che si possono apprendere, perché poi l'80-90% del trader perde? Adesso vediamo alcune statistiche, alcune cose. Vi condivido qui i dati appunto di uno studio che non ho fatto io, ma che aveva fatto questo broker e poi questi studi che erano stati fatti da degli analisti e avevano preso le principali coppie valutarie, anche i maggiori cross, diciamo, e si andava a notare come la parte del win ratio, quindi winning percentage contro losing percentage, ovvero quando io faccio un trade, facciamo esempio, quando faccio 100 trade su euro-dollaro, prendiamo euro-dollaro, che è questa, anzi scusate, è questa, euro-dollaro, eccola qui, quindi si nota che, ve lo dico io, questo nel dato, c'era scritto che il 61%, questo è il 50%, questo è il 75%, il 61% dei trade fatti su euro-dollaro erano trade chiusi a profitto, ok? Quindi provate a guardare quanti anche coppie di valute addirittura, mediamente, venivano chiuse molto più in profitto. Se l'euro-dollaro era il 61%, guardate, l'euro-yen o l'euro-australia andava intorno al 69%, 70%, 71% di trade profittevoli rispetto ai trading loss, che, guardate, sono tutti molto più piccolini, no? Come perdite. Quindi a una prima visione si potrebbe pensare che sia abbastanza difficile che poi il trader chiuda l'anno o chiuda un periodo in perdita, quando ha, questo è più di un anno, è di analisi, su 43 o 42, 43, non ricordo esattamente il dato, ma tra 42 e 43 milioni di trades effettuati. Quindi stiamo parlando di una statistica bella, bella brensa, bella piena. Quindi molti trader, anzi, bene o male, dove si guadagnava meno, ma è un po' più del 50%, era Udn, stiamo parlando del 50%, 51%, quello che è. Quindi si chiudono le posizioni più in guadagno che in perdita. Cioè, io faccio 100 posizioni, sull'euro dollaro 61 lo chiudo in profitto. Bene, guardate poi questo dato. Scusate, eccolo qua. Questo dato invece ci conferisce il motivo per cui poi l'80-90% dei trader tende a perdere soldi. Perché qui invece c'è leverage gain e leverage loss, sempre su cui 42-43 milioni di trade analizzati. Se guardate, le barre rosse sono, questi sono i pips, i pips guadagnati persi, blu guadagnati, rossi persi. Quindi, guardate, per esempio, l'Audien ha sicuramente più pip persi di quelli guadagnati, l'Australia e la Zelanda pure. Guardate, euro dollaro, euro dollaro è, vediamo, questa. Guardate, euro dollaro avrà circa 73-74 pip persi contro probabilmente poco più di 40 guadagnati. Guardate, euro yen, cosa saranno? 47-48 pip guadagnati contro più di 80 persi, cioè 1-2 al contrario come risk reward. Stessa similcosa per la stellina a Neo Zelanda. Quindi si nota anche ad occhio nudo barre rosse molto elevate, cioè pips persi che in molti casi arrivano ad 80 contro poco più di 40, pips guadagnati sempre molto meno, addirittura a volte quasi 1-2 al contrario, diciamo, tra average gain e average loss. Quindi la prima cosa è questa e i motivi si vanno a, come dire, a trovare sul fatto che, adesso vi faccio vedere un esempio sempre di questo studio, ma su una cosa che è reale e tra l'altro è stata studiata anche dallo psicologo Daniel Kahneman. Adesso vi farò vedere un'analisi che il premio Nobel aveva fatto appunto riguardante il trading, visto che comunque la sua ricerca era proprio sul processo decisionale. Però vabbè, al di là di questo, la cosa che noi dobbiamo soprattutto prendere da questa analisi e che io prendo da questa analisi è che tendenzialmente le perdite nel trading fanno molto più male psicologicamente rispetto ai guadagni. E qui ci arriviamo poi adesso. Guardate un po', prendo sempre l'altra slide, sempre dello studio, ovviamente era tutto in inglese, però insomma è abbastanza semplice. Vi faccio, viene posto poi successivamente a questo esame che lo studio ha fatto, questo esperimento, che mostra due situazioni. Allora, situazione la prima, la scelta A, si ha il 50% di possibilità di vincere 1000 dollari e il 50% di vincere 0. Quindi si ha un'aspettativa di vincita di 500 dollari nel lungo termine. La scelta B è vinco 450 dollari secco. Il più delle persone che hanno provato a fare questo esperimento hanno scelto choice B, quindi la seconda, questa. Quindi non di andare a provare di guadagnare nel lungo termine 500 dollari, ma di andare sui 450, che era il contentino fisso. Se però, esempio 2, andavamo nella parte delle perdite, ovvero scelta A, si ha il 50% di possibilità di perdere 1000 e il 50% di possibilità di perdere 0, quindi si ha un'aspettativa di perdita di 500 dollari, la scelta B, perdita di 450, fissa, il più delle persone sceglieranno quella, la prima. Non sceglieranno la seconda. Quindi tendenzialmente si spera di perdere 0. Quando invece qui c'è la, come dire, l'attrattiva del guadagno fisso, faccio 450 e li prendo subito. Ecco, qui arriviamo su quel discorso che facevo prima e che è collegato proprio alla percentuale dell'analisi, dello studio fatto su questi 42-43 milioni di trades fatti sul mercato del Forex. E questa cosa qui, che è questo esperimento qui, ci mostra proprio il discorso che facevo prima, ovvero che la perdita, le perdite, nell'umano, nella persona umana, il trader è un essere umano, fanno più male psicologicamente rispetto ai guadagni. Quando... Allora, se noi pensiamo che un trade in cui io perdo 500 e in cui guadagno 500 dovrebbero essere equiparati. Cioè, dal punto di vista proprio del trader, del trading, 500 dollari persi sono uguali a 500 dollari guadagnati. Uno non vale più dell'altro. Invece noi tendiamo ad agire in modo diverso. Sembra, diciamo, discretamente buono andare a guadagnare 450 dollari contro i 500 dollari, ma accettare una perdita di 500 dollari, diciamo, fa troppo male e quindi molti sono disposti a scommettere sul fatto che l'operazione cambi direzione e quindi si spera sul ritorno inutile. Ovviamente qui si aggancia tutta una serie di di cose che potremmo andare a approfondire. Per esempio, la paura, che è una delle emozioni, ovviamente, che invade completamente il nostro corpo, anche a livello fisico, fisiologico, è quando facciamo trading. E io, quindi, ancora di più, in questo canale, ovviamente, noi abbiamo sempre cercato di portare questi esempi e queste... e questi studi, queste idee, perché sono dati da un trading reale che è fatto da tanti anni e che ha visto tanti momenti l'evolversi di tante cose, quindi, di base, quello che io vi spiego adesso attraverso uno studio, ma in realtà è molto esperito sulla persona, il trading è è cento per cento testa. Ovviamente è anche cento per cento tecnica perché la tecnica serve per far sì che noi possiamo andare a mercato e fare un trading su cui ci sentiamo tranquilli, sereni. Io mi sento sereno quando faccio un trade su un setup a quattro ore o su un setup daily. Mi sento meno sereno se dovessi mettermi su cinque minuti con un altro tipo di tecnica. Perché? Perché da tanti anni ormai ho fatto, ho forgiato la mia, il mio approccio al trading in quel modo, ma non che sia sbagliato l'altro. Ognuno ha la sua modalità. Il fatto che poi un trader a fine anno, a fine dei cinque anni, a fine dei dieci anni sia ancora lì, sia ancora profittevole, sia ancora nel gioco, non è dovuto solo alla tecnica, ma è dovuto a una serie di cose tra cui la proprio approccio mentale all'operatività e la gestione della perdita. Quindi far valere quei famosi 500 dollari di perdita in profitto nello stesso modo, perché non è così? Invece dal nostro punto di vista, siccome ci fa più male la perdita, ci ricordiamo molto di più delle perdite rispetto che i profitti fatti, ci fa poi pendere per un'operatività che nel trading è poco efficace ed è perdente. Quindi fin tanto che i trader, noi trader, non accetteremo la perdita in maniera che diventi proprio un modus operandi, uno stile di vita, il trader è come dire, essere un trader è quasi una filosofia di vita se vogliamo. Io sono trader un po' in tutto, se a volte mi guardo anche quando sono in giro, il trader mi ha completamente assorbito a livello di mentalità e di approccio alle cose. Quindi dobbiamo cercare di essere molto bravi nell'accettare la perdita, di studiare, di fare un grande studio introspettivo, di cercare di migliorarci. Quando noi parliamo di miglioramento è anche questo, anzi, questo è assolutamente un qualcosa che cambia, che fa cambiare i risultati. se non lavoriamo su questo poi ci potranno essere periodi positivi, periodi negativi, ci potranno sicuramente a volte la tecnica può sopperire, ma nel lungo termine vi assicuro che vivere nello stesso modo momenti negativi e momenti positivi cercando di lavorare e poi di evolvere nel momento in cui il mercato magari non ci paga e quindi cercare di studiare i motivi se è stata una è stata una situazione in cui magari il mercato veramente ha fallito dei setup di qualità o se sono stato io come trader che in quel momento magari ero poco in focus e avevo perso un attimo la rotta e ho fatto delle ho avuto dei comportamenti che non sono stati efficaci. Ricordiamoci che gli alibi nel trading contano poco dare la colpa al broker o dare la colpa a questo a quell'altro a quell'altro ancora diciamo che sì può magari a livello così nostro personale sembra quasi che ci dia la pacca sulla spalla in realtà quando noi facciamo dei grandi profitti o facciamo delle grandi perdite o facciamo dei profitti o delle perdite l'unica colpa e l'unica come dire soddisfazione è nostra l'unico vero responsabile è l'io Arduino per quanto mi riguarda quindi se ho fatto un periodo di perdite l'unico vero come dire artefice di quella perdita sono io se ho fatto un buon profitto in un determinato lasso di tempo sono io il responsabile di quel profitto bene io direi che ci siamo abbiamo detto tutto vi chiedo se volete lasciare appunto un like se volete iscrivervi a questo canale attivare la campanellina se volete supportare questo canale anche attraverso l'abbonamento su cui sto facendo svariati video molto molto interessanti e poi lasciate ovviamente un commento perché per me è importante sentire anche un po' le vostre le vostre idee sempre però con molta gentilezza e con contatto perché ovviamente quando poi i commenti diventano esclusivamente delle offese o cose di questo tipo non sono più la persona che ha bisogno di questo sul canale e credo che il nostro canale che da tanti anni va a trasmettere contenuti di alta formazione nel trading non abbia bisogno di questi commenti quindi commenti che possono essere critici e propositivi e anzi di crescita ben vengano ma se sono quasi offese o cose di questo tipo ovviamente vengono eliminati e la persona che li fa bannata bene io vi ringrazio vi saluto vi auguro un buon trading simple e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti